Andiamo da due anni difficili dove magari non abbiamo fatto quello che dovevamo e riprendere adesso è importante secondo me. E anche in un contesto insolito si fa prevenzione? È vero, sì, non guasta anche magari fare un giro. La prevenzione si può fare davvero ovunque, in questo caso anche mentre si fa shopping. Il circuito di outlet Land of Fashion ha infatti deciso di investire nella prevenzione del tumore al seno. È stato un bello step di controllo, per fortuna insomma tutto è andato bene. Anche al Val di Chiana Village di Foiano ha così fatto tappa la clinica mobile dello screening senologico. È un'iniziativa femminile perché chiaramente il nostro pubblico è prevalentemente femminile e poi è dedicato anche in parte ai nostri dipendenti che sono per l'appunto quasi per intero dipendenti donne e quindi abbiamo unito l'aspetto sociale anche ad un aspetto di coccola nei confronti dei nostri dipendenti ma sostanzialmente è un evento per il territorio che ci circonda. Un'iniziativa rivolta a clienti e dipendenti che si sono potute sottoporre gratuitamente ad un esame diagnostico di screening al seno, ecografia e mammografia. Per tutte le donne dai 35 ai 49 anni, ovvero la fascia d'età, quella che non è coperta dallo screening regionale mammografico che parte dai 50 anni. All'interno abbiamo un tecnico radiologo che segue tutte le mammografie, il medico che referta entrambi gli esami, ovvero l'ecografia e poi la mammografia, il referto viene dato immediatamente a tutte le pazienti. Il tumore al seno è una tra le neoplasie più frequentemente diagnosticate nella popolazione italiana ma sempre più curabile grazie alla prevenzione. Credo che la direzione del Village abbia veramente fatto una cosa importante che si integra con l'attività che la sanità pubblica regionale sta portando avanti. Sappiamo che prevenire è meglio che curare.